L'associazione della Sud vi proponeva di fare delle inchieste sociali dal basso sugli argomenti della mafia che c'è anche a Roma, come abbiamo scoperto recentemente. Tu che cosa ne pensi? Ti piace questa idea? Sia importante il fatto che ce ne abbiano parlato e che ci abbiano detto come si può organizzare una cosa del genere. E penso che sia una cosa importante per gli studenti appunto di accorgersi di ciò che hanno intorno e di rendersi più conto delle problematiche e di quello che sta dietro alle cose che vediamo tutti i giorni che a noi possono sembrare la normalità perché ormai è routine, ma magari dietro c'è qualcosa di un po' più pesante e organizzato come può essere un'organizzazione mafiosa. E la tua esperienza personale che significa mafia? Mafia significa corruzione, significa ciò che si sostituisce allo Stato perché alla fine di questo stiamo parlando, la mafia si muove a scopro di lucro sostituendo ciò che lo Stato purtroppo per un problema o per l'altro o per organizzazione non riesce a dare ai cittadini. Ai cittadini che in questo momento stanno affrontando un periodo di crisi profonda e che cercano in qualche modo di trovare un modo per andare avanti nella loro vita che è parecchio difficile in questo periodo appunto in Italia.